Novelli ha concesso ai suoi giocatori una pausa abbastanza lunga, più di una settimana per ritemprare fisico e mente e farsi trovare pronti alla ripresa dei giochi agli esordi di gennaio contro il Pineto di Amaolo a Selvapiana. Lo stesso tecnico Campobassano ha congedato i suoi con un programma di allenamenti da seguire scrupolosamente durante questa parentesi di ferie. La pausa natalizia e di fine anno servirà anche alla stessa società per compiere ulteriori riflessioni sul futuro? Ebbene sì, se da una parte esiste la gara del campo con un girone intero da disputare, l'obiettivo salvezza da conseguire, dall'altra c'è una partita a livello societario abbastanza complessa. Sono in piedi un numero imponente di vertenze di giocatori dello scorso anno. Ci sono da saldare gli stipendi ai giocatori attuali, possibilmente ogni mese, ma questo ci sembra davvero pura utopia allo stato delle cose. Questioni rimesse ad Aliberti che guida i fili delle vicende a distanza dalla sua Salerno, mentre in loco le cose sono rimesse all'organizzazione di una dirigenza dalle discutibili capacità, dal presidente all'improvvisato, direttore sportivo attaccatissimo ad una poltrona così delicata e che non fa per lui, come hanno certificato le recenti campagne a questi giocatori, ma che proprio non vuole mollare. Piccola ma significativa digressione da fare sul silenzio stampa che la nostra emittente non condivide, ma rispetta nella maniera più assoluta la nostra posizione nei confronti del silenzio stampa è sempre stata questa, anche quando a indirlo frequentemente era la precedente proprietà di Ferruccio Capone, cioè rispetto ma mancata condivisione, proprio perché veniva meno il filo diretto con i tifosi, che sono i principali destinatari delle interviste e delle voci dei protagonisti. Parlavamo di coerenza, la stessa che manca evidentemente ad alcuni personaggi che oggi sono ai vertici della società e che tengono la bocca rigorosamente cucita, mentre all'epoca di Capone erano protagonisti di critiche acerrime nei confronti dei silenzi stampa promossi dall'imprenditore avellinese. Altra ed ultima considerazione sul silenzio stampa attuale del Campobasso, se le campagne di comunicazioni devono consistere in roboanti annunci di vittoria nei mesi rigorosamente di luglio ed agosto, oppure in propaganda e imponenti su un ripescaggio in Lega Pro che sembra davvero cosa fatta, salvo poi dire il giorno prima della presentazione della domanda No scusate ragazzi, stavamo scherzando, non si parte più per Firenze? Allora è davvero meglio stare zitti, tornando al calcio giocato tra gli obiettivi del lungo periodo di sostaci e anche quello di recuperare in prota dall'infortunio, considerate l'enorme difficoltà che il Campobasso ha palesato a Pesaro nel creare occasioni da rete. Non era al Benelli che i lupi dovevano fare punti, ma la squadra è apparsa, davvero spuntata. A proposito di Pesaro-Campobasso, sentiamo il terzo marcatore dei locali. Rocco Costantino, attaccante del Pesaro, felice per questa vittoria che a questo punto vi candida sicuramente ad una delle squadre che può vincere il campionato? Intanto volevo fare i complimenti a Campobasso, perché comunque ci ha impensierito. Sicuramente noi il mister l'aveva preparata bene. Impensierito in che senso? A inizio del primo tempo sicuramente. Non riusciamo a trovare la giocata giusta. Fasa di contenimento. Sì, giusto. Con questa vittoria oggi diciamo che la nostra classifica migliora ancora. Siamo contenti sicuramente. Siamo lì quindi possiamo giocarcela sicuramente. Hai segnato il terzo gol in merito a Ridolfi. Avete duettato davvero credo per 30 metri. Sì, sì, sì. Ma infatti era quello un po' che non ci riusciva il primo tempo. Abbiamo cercato di giocare, di cercarci. Però ribadisco, la difesa del Campobasso si è comportata benissimo. Poi al secondo tempo diciamo che gli spazi si sono aperti. Quindi abbiamo sfruttato le nostre giocate. E adesso questo girone di ritorno tutto da giocare con Fermana, San Nicolò, lo stesso Matelica. Voi che lottate per un posto? Sì, sicuramente. Ma noi, come ho detto già nelle scorse settimane, tendiamo sempre a migliorarci. Quindi pensiamo a noi... Certo, sembra una frase fatta, però è quello che vuole il mister. L'obiettivo del mister è quello di migliorare la squadra e di migliorare tutta la rosa. Certo, sembra una frase fatta.